buongiorno a tutti sono roberto pudu della remax mistral di cagliari e oggi siamo appunto a cagliari siamo in prossimità della piazza garibaldi al centro praticamente di cagliari quello che vi stiamo presentando è un appartamento in realtà è una struttura diciamo che è un appartamento trasformato già in affittacamere operativo o comunque pronto ad essere utilizzato seguitemi nelle mie pagine professionali roberto pudu agente immobiliare sia facebook youtube per vedere altre novità come questa intanto ve la presento perché siamo direttamente su strada questo è il cancelletto e siamo all'interno del cortile che gira su tre lati questo è cortile privato da lì abbiamo l'accesso direttamente all'immobile ma visto che siamo nel cortile vi faccio vedere da questa parte quello che è lo spazio dedicato al locale caldaia e al posto auto altalena ad uso chiaramente delle persone che vi accedono e questo che vedete da qui abbiamo il locale caldaia con le strutture diciamo per scaldare l'acqua sanitaria e tutto quello che vedete tutto questo spazio coperto è utilizzato come posto auto sia dal proprietario o dai clienti che eventualmente alloggiano tenendo presente che all'interno ora lo vedremo abbiamo tre tre camere tre suite non tre camere anche perché ogni camera è dotata di tutti i comfort per potervi soggiornare per brevi e medio periodo ve lo faccio subito vedere salutando il papagallo che ci fa appunto da da ingresso entriamo entriamo sulla struttura struttura all'avanguardia come vi dicevo dotata di tutti in comfort questa è la stanza la sala comune quella che accoglie diciamo che funge da salottino infatti abbiamo una piccolo un piccolo mobile uso cucina con altre altri mobili e soprattutto qua sopra accesso tramite questa scala il una parte soppalcata grande anche quanto il disimpegno che accoglie tutte le necessità e i cambi che vengono utilizzati diciamo da ad uso della fita camere proprio per per le persone che magari hanno le pulizie per le persone che si occupano della manutenzione lì sopra tra l'altro ci sono tutti i sistemi che servono la domotica servono l'impiantistica elettrica di tutto e di tutto lo lo stabile di tutto l'immobile tenendo presente che la domotica ci consente di governare di gestire l'immobile completamente da remoto tramite app di cellulare sia gli ingressi che le luci che le varie chiusure insomma regolazioni vi faccio notare alcuni dettagli come il condizionatore e tutte le strutture l'impiantistica di sicurezza come per esempio questo impianto d'allarme che diciamo mette fine tutto il discorso dell'elettricità insomma per questioni di sicurezza ma entriamo nel cuore diciamo di questa struttura di questa fitta camere abbiamo appunto tre suite veramente fantastiche vi presento insomma adottate chiaramente apertura a chiave ogni camera ha un nome qui per esempio stiamo entrando nella suite eclettic quello che vi faccio subito notare è che questa struttura appunto è pronta all'uso se voi avete lo spirito imprenditoriale troverete esattamente pronto letto matrimoniale abbiamo sempre degli infissi d'eccezione antilumore antiriflesso con delle serrande frigo bar e poi chiaramente la parte relax dotata appunto di vasca idromassaggio con tutti i comfort a led e da questa parte lavello bidet e wc con finestra che dà direttamente sul cortile oltre che chiaramente altri piccoli comfort dotati appunto sono dotati di phone tra l'altro ogni camera come potete notare ha la possibilità di essere climatizzata in maniera autonoma non solo ogni camera ha le luci di emergenza nel caso dovesse mancare la corrente c'è la possibilità di anche di notte di andare verso l'uscita lasciamo la prima la prima suite ed entriamo nella seconda la seconda si chiama comfort tra l'altro la possibilità di utilizzare la scheda diciamo come presenza diciamo della nella stanza con le varie luci quindi la blu scheda assente l'arancione e la rossa non dovete proprio entrare ok riprendiamo la scheda tutte sono diverse tutte sono coreografate in maniera diversa qua abbiamo appunto un schema di parchi alle pareti sempre la tv il frigo bar lo abbiamo all'interno del mobile e da questa parte tramite porta scorrevole dall'altra parte la porta a vetri abbiamo sempre il bagno completo lavello bidet wc e da questa parte una doccia che funge anche da sauna porta finestra per uscire nel cortile comunque condominiale e questa è la seconda suite da questa parte entriamo nella terza suite la più grande la king bella grande soprattutto vi faccio notare la cura dei particolari l'emozione di vedere tutto a led il bancone sempre il frigo e poi ve lo faccio vedere da lontano quello che è appunto il panorama che dà proprio sulla vaschietro massaggio e qui di nuovo il bagno completo con bidet wc doccia e lavello bellissimo vi faccio vedere un panorama da questa parte perché dovete solo scegliere dove stare se nella vaschietro massaggio o nel letto e riusciamo dal dalla dalla king vi faccio rivedere ripassare nel disimpegno fino alla zona comune per dirvi che abbiamo presentato un immobile la tipologia è di trivano per intenderci abbiamo tre camere da letto tre suite dotate appunto di bagno in camera con vasca idromassaggio questa è la zona comune di accoglienza un cortile che corre su due lati con posto auto e la di sotto nel piano seminterrato accessibile sia da rampa carrabile che dall'interno del cortile condominiale una comoda cantina che vi può essere utile per appunto sgombero per gli vari sgomberi siamo al centro di cagliari in prossimità della piazza garibaldi questa potrebbe essere un trampolino di lancio per le vostre idee imprenditoriali pronta all'uso e chiave in mano scheda elettronica dotata di tutti i comfort climatizzata e dotata chiaramente di tutti i sistemi non solo di sicurezza ma anche di domotica che la rendono accessibile fruibile anche da persone che magari non devono venire ad aprire ad accogliere clienti e di persona ma a gestire tutto quanto tramite app del cellulare io sono roberto pudu della re max mistra di cagliari vi invito a contattarmi nelle mie pagine professionali roberto pudu agente immobiliare o per telefono per avere altre informazioni di questo immobile che sicuramente come dire stuzzicherà la vostra fantasia ciao a tutti e ricordate che posso vendere anche la tua grazie a tutti grazie a tutti